Ciao amici siamo Metta e Vise, Metta e Vise, siamo a New Year Ragazzi è stato uno dei viaggi più belli della nostra vita e abbiamo voluto regalarvi questo video come il nostro regalo di Natale Sì ma perché siamo vestiti da Gigi e da Babbo Natale, perché siamo vestiti così? Ragazzi guardate tutto il video mi raccomando e per questa avventura vi chiediamo 150 mila like e mi raccomando scrivete dove volete che andiamo in giro per il mondo Scrivetevi un'occasione per augurarvi un bellissimo e fantastico Natale Buon Natale a tutti e vi lasciamo questo nostro regalo Buon Natale Te ne hai comprato una valigia nuova, metti il pin, facci vedere il tuo pin Ha appena comprato una valigia nuova perché la sua si è rotta Abbiamo iniziato bene Allora stiamo per partire finalmente in direzione New York Vise 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 Ti manco? Sì Quanto? Sì Io ho fatto il gesto della pancia perché io ho il linguaggio dei mimi Beh raga benvenuti a New York comunque Comunque stiamo passando i controlli negli Stati Uniti, questa è la faccia che mi è uscita guardando la macchinetta Guarda quella di Vise Cosa avevo visto qua? Non c'è mai limite al peggio Cosa avevo visto? Bene bene raga siamo arrivati a New York adesso Tony e Tony Apri la porta Perché si gira al contrario qua la chiave Ma è in America? La 10B È già aperta, dove sono qui? Sì perché in America lascio la porta aperta Sì è certo Ciao Permesso Permesso Ma questa Che bello Mi piace il sacro Wow Questo qua è il letto matrimoniale dove dormiamo io e te La promessa è che a fine di queste giornate io imparerò l'inglese Sorry sir I can caricare my telephone So warm is Can you Allora Allora You have a I can't toccare Tata Guardate come ci siamo svegliati stamattina C'è la neve La neve La neve La neve La neve Buongiorno New York Anche se da voi È notte Andiamo a fare colazione Da ciccione Hi guys Another day in USA Ciccione Ciccione Ragazzi questa edizione speciale per il Natale Il caffè americano fa cagare Ma nel vero senso della parola Mi sto cagando addosso Siamo siamo alla ricerca di un cappello perché a New York fa freddissimo ragazzi Bise questo prendilo Questa è la morte tua Ciao Ciao buona festa buona Ciao ma sei fantastica A New York ha iniziato a nevicare E Bise è in panica Cosa cazzo sta succedendo? Io sono un vero uomo No tu sei un vero pirla Perché siamo di che cosa? No è perché tu tu vuoi mettermi questa cosa che fa male E non so E non mangiare E non mangiare tutto questo casino E non mangiare E non mangiare E non mangiare E buon Natale E buon Natale Buon Natale Quanto è americana sta macchina della polizia Quanto sono due poliziotti i poliziotti qua Quanto sono American gli American qui Raga 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 Sei bellissima Una favola Queste sono ancora più belle Ma la mia spada di Minecraft vince sempre Un like per la spada di Minecraft ragazzi Comunque raga dormire qua guardate qui Oh Non è da pochi Dub 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 dance Dub 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 dance Dub dance Che cosa? Ma quella non è la dub dance No che cazzo era quella? Dub dance La dub Quella era il ballo del quacqua ragazzi Zio ma non è così Questo è il ballo del quacqua Questo è il ballo del quacqua Che di Patero Che sa fare solo Patero e Patero E la persona più scoordinata che abbiamo incontrato Amico tuo? Cambia Cambia amico zio Non è un po' di figa 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 Raga Anche tu anche tu Ciao A me piace Porcellona Ragazzi Che bellissima New York Che bella New York Ma chi è che ha scritto un po' di figa? Un po' di figa hanno scritto sulla macchina È il nostro amico Che sa che ha scritto un po' di figa? No tu sei furbo Tu sei furbo Ragazzi l'abbiamo trovato Un po' di figa Grande Ha scritto bisogno un po' di figa Inter Inter Non dice Inter Ragazzi siamo alla partita dell'NBA A guardare I Lakers contro i Brooklyn Adesso i Lakers stanno perdendo ragazzi Ragazzi Ti levi dal c***o Ragazzi esiste davvero quello che vende le birre Non ci sto credendo Ok la verità è che siamo venuti qua Solo Matt Ti sei perso un concentrato di figa atomica Poi c'era il tipo che sparava le magliette E poi è arrivata una no? Tipo E niente Mi ha dato il suo numero Salta il rospo Salta che la rana Ti non salta Arriba la figa Arriba la figa Arriba la figa Vado Vado Arriva la figa Arrivo Eccola 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 Cassi tutto questo perché ha vinto una c***o di maglietta Allora ragazzi i Lakers stanno perdendo Ma non me ne frega nulla Mi hanno inquadrato nei tabelloni Ragazzi Non ci sto ancora credendo Pazzesco raga Le bambini erano bassissime E mi hanno inquadrato Ragazzi non ci sto credendo Canta la canzone di Frozen Ehm Conte No No non è quella Partiro Non è adatta ai bambini questa cosa Ma questa è pornografia No questo Questo è fantastico No vabbè Ma che cos'è No vabbè mi fai volare altissimo così eh Scusa ma Scusa ma ti chiami te alle basse Scusa ma ti chiami Scusa ma ti chiami te alle basse Perché gli ha alzato la sbarra Salve Salvini Perché io non ne acquisterò un cappello qualunque Acquisterò il mio cappello Che sarà lui a scegliere me Che bel cappello E lui che ha scelto te Zio prova a mettertela nel culo E io ho la spada di Minecraft Oh Matt Scusa ma sorry Che hai sulla testa Questo rideva per un pezzo rosso Che hai sulla testa Oh New York sei magica Forse il cappello ha scelto me Insieme a lei che mi ha dato un consiglio E non ridere che tu sei furba I cappelli hanno scelto noi Oddio io speravo che un cappello migliore mi scegliesse Ma va bene così Bambina da B in mezzo alla strada Che, che, che hit Oh ma un regalino a mamma bees Non ti sembra un attimo inesagerato? Allora c'è Allora c'è Sapete cosa hanno risposto Di andare all'ottantaquattresimo non so cosa E noi ci stiamo andando Where is Santa Claus? Di là Ma non è vero Matt Mi continuano a prendere in giro Hanno detto che Santa Claus è di là Babbo Natale non esiste E qua Babbo Natale non esiste A 23 anni mi sono ricredito Babbo Natale esiste E andremo adesso Chilometri di Pisa E' interminabile non finisce più ragazzi Perché non potete capire Quanta gente c'è Ciao Ciao Come stai? Buon Natale Buon Natale Buon Natale Allora mi hanno detto che qua Ah seba Santa Claus Santa Claus No raga Posso sedermi Ma esisti veramente? Posso? Posso? Ciao Babbo Facciamo la dub dance Dub dance Santa Dub dance For Christmas I'd like a 2 million follower On YouTube Ok Babbo Un po' di figa ogni tanto Ok Ha detto di sì Aspettare 24 anni Per incontrare Babbo Natale E poi scopri Che Babbo Natale Li stai sul cazzo E' una hit ragazzi E' una hit Amore vieni con me Scappiamo a New York Se stiamo insieme Sì Paura Però voglio anche mettere il video Scappiamo a New York Ah qua fumano la siga elettronica Non fumate che fa male 3 2 1 Auguri Alle macchinette La 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 Dub dance Dub dance A parte Vabbè Prima vi facciamo vedere questo Sushi Ma la cosa importantissima ragazzi Che Abbieze non mangerà Ragazzi siamo con Mia Khalifa Ragazzi voi maschetti Io so che la conoscete Mia 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 Khalifa Mia Ciao sono Mino Khalifa A me piace I piccioni YouTube YouTuber Bias Pornostar Ok perfetto Fantastico Ora ti distruggo Vai Mia Sei un pezzo di merda Meglio Ragazzi è rimorchiato Ragazzi è rimorchiato Ero Alla Oggi ho vinto 30 euro Oggi ho vinto 30 euro Alle macchinette Pop 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 Top raga Top raga ragazzi bise fa i grattini alle 50 anni perché fumano i tombini qualcuno me lo spiega nessuno mi ha dato una vera risposta a questo se lo sapete scrivetelo nei commenti ragazzi guardate ci sono tanti uomini tanti uomini che sorridono tu mi vedi? no il freddo ti ha fatto incazzire completamente il cerno appena siamo entrati c'era una grandissima puzza di merda e io ho detto no e abbiamo un piccolo sospetto un piccolissimo sospetto pizza heart motherfuckers now watch me where? now watch me nene now watch me where? where? watch me nene oh time square è un posto veramente magico cosa c'è? cosa seguirci su instagram perché siamo quasi un milione adesso mi raccomando perseggemo il milione anche su instagram USA 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 Matt Matt stai parlando con una statua bisogna toccare le palle al toro si ma le tocchiamo insieme ciao toro posso toccargli anche il buco del culo da noi in Italia direi che è scontato non poter portare le pistole ma qua gli americani lo scrivono perché sapete come sono gli americani ricordatevi di non portare le pistole che poi dici no me la sono dimenticata in tasca e di un mio amico non si fa caro americano che schiava di Roma e sia pronti alla morte l'Italia chiamo ma cosa sta su non scappa secondo me sono finti guardate cosa trasmettono ragazzi siamo in Chinatown vediamo che cosa ci riservano i nostri amici cinesi qui a New York quando entri sei già che ti prenderai 3-4 malattie tu quante ne hai prese? ma non so quelle sembrano tipo tartarughe comunque l'igiene è una delle cose fondamentali a Chinatown ce ne siamo resi conto raga anche per noi è troppo anche se questa fosse una made in raga non so che cosa vuole questa ma è da una che ci sta dietro eh abbiamo rimorchiato io questa cosa la devo capire e non potevamo resistere al fascino della pizza ok che la pizza era buona ragazzi però 73 euro 3 pizze grazie sto cazzo ragazzi qui ci sono i video di mettebise ragazzi ho il cringe che vuole rovinarmi il Natale a New York il Natale fa schifo ma smessi la cringe ma basta tutti che sono felici a Natale io odio Natale papbo Natale non esiste qua vendono le pistole come la mortadella un letto di prosciutto crudo un letto di prosciutto cotto e niente se hai un mitra te lo trovi se lo sei in offerta raga non sapevo una parola allora ragazzi ci volevo prendere un attimo di serietà per raccontarvi dove ci troviamo ci troviamo dove l'11 settembre c'è stato l'attentato e dove c'erano le torri gemelle ora è rimasto solo un monumento con un grande buco e in memoria di tutte le vittime qua ci sono scritte tutti i loro nomi ce n'è uno qua e l'altro e l'altra torre era di là voi immaginatevi queste due torri gemelle di cento e passapiani che hanno distrutto non solo le torri stesse ma tutto quello che c'era attorno e in memoria hanno fatto questo grattacero altissimo che è la Freedom Tower e fra poco ci saliremo sopra ragazzi stiamo salendo stiamo salendo su wow in lontananza troviamo la stato della libertà ma è davvero davvero lontana e questa è la vista di casa di Piero grazie Piero e benvenuti tornate sempre allora ragazzi andate assolutamente a visitare la pagina facebook il mio viaggio a New York dopo 3-4 giorni di schifo hamburger cose fritte cose americane oggi abbiamo deciso di mangiare leggeri fai schifo io? e tu l'hai preso uguale no fai schifo tu l'hai preso uguale ti sembra normale mangiare questa roba? eh sì allora ora chiederemo in modo molto gentile alle persone se possono spostarsi perché vogliamo fare una foto ti puoi levare un attimo dal cazzo ragazzi mi mandiamo un bacione da il centonesimo piano ciao ciao dove cazzo è Uber? che freddo freddo allora c'è questo felpa felpa una giacca hai la giacca? un altro felpone una maglietta e un'altra maglietta sotto metta l'altro esplodi sette capi addosso ce la faremo New York non ti temiamo io sto male non mi dormi ben bambino dormi dormi piccolino stiamo entrando allo zio stiamo entrando allo zio stiamo entrando allo zio chiedigli se c'è quell'animale lì c'è un po' di figa nello zio? c'è? non comprendo ragazzi abbiamo trovato la figa ah no la foca ragazzi ditemi se non assomigliano a bise che razza di animale è questo? allora ragazzi abbiamo pensato che potrebbe essere un coniglio un coniglio con un bambi ma quanto sono inquietanti questi conigli senza testa perché sei qua dentro? mamma! no devo uscire mamma ma tua mamma ce l'aveva orizzontale? scusate cosa strecazzo è questa? cavolo è questa? cos'è raga? ragazzi siamo in un classico diner americano guardate guardate che cosa abbiamo qui per essere ciccioni anche oggi guardate qui ragazzi per farvi tenere un po' fame no? con la michelle dietro ragazzi ragazzi noi mangiamo perché tra poco prendiamo la aero ciao ok ragazzi ve l'avevamo promesso noi adesso salutiamo tutte le nostre fan che ci seguono sempre ci sono tantissimi fan club che crescono e ci fanno delle cose bellissime noi le guardiamo mettebise citazioni che sono Dan e Ines mettebise il mio sorriso mettebise my smile mettebise fanpage mettebise the king mettebise my hall Valentina Procopio E' l'Udovica e' l'onora mozzoni ragazzi e tante 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 mi raccomando noi cercheremo da adesso di salutarvi in tutti i nostri video perché grazie a voi se siamo dove siamo adesso e vi vogliamo bene ciao raga ciao ragazzi questo video finisce qui abbiamo aperto il video in times square e lo chiudiamo in times square speriamo vi sia piaciuto se l'avete visto tutto commentate qua sotto con can I have sulla testa così sappiamo che avete visto questa parte che la mettiamo alla fine non fate i burbi quindi se l'avete visto tutto il video scrivete can I have sulla testa commentate così e ragazzi noi guarda che non ci siamo dimenticati di mangiare abbiamo fatto il video del cibo solo che diventava troppo lungo il video quindi tra qualche giorno ci vediamo online con la Made in USA Challenge vi salutiamo vi lasciamo tutti i nostri link in descrizione buon natale buone feste ci vediamo nel 2017 mette a vise mette a vise mi metto una frisida con se mi sa Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Leo Aglio e Feliz Navidad devi essere felice notale Leo tu sei il Grinch sei il Grinch che tu sei il Grinch che tu sei il Grinch